Il Kynter? Qual'è? Non mi ricordo. E' Kzan? Il Kynter? Il Kynter? Il Kynter? Il Kynter? Il Kynter? Ah, con il The Die? Carina l'idea di usare il The Die. Che è appunto l'unica cosa che dici Mi fai l'healer perché magari vai in giro appunto curi tutti i vari reaper che stanno subendo le cose brutte. Velocizzare il fight secondo me è meglio. Ah, corriente. Devo vedere sulla squad che non ci guardo mai se vengono segnalati chi ha la corrente. Io non mi proprio li tengo disattivati a meno che non ci vado sopra con il mouse. Ah, pensa giusto che io sono... Si, hai tipo 10 secondi. Corri, 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 corri. Buonissimo questa distribuzione di palline. Non so se l'ho presa quella... Questo l'ho preso io. Ho aggrato una bomba. Un... La bomba non l'ho aggrata. Ho aggrato un golem. Si, si, vieni intorno, vieni. Non so come ho fatto a prenderlo però... Va bene, l'importante è che sia morto. Vedi, ho curato una persona dell'altro parte, che schifo. Ma siamo tutti pronti. Ma siamo tutti pronti. Siamo tutti pronti. Ma se vengono inizialmente, se non mi fassi. Se vi va invisibili, i torri, ma non si sforzano. Ma... ma è definitivo allora parlo con gli dice, scusa. Voglio fare Kitter Infinito, gli faccio fare i piloni, gli faccio fare... Quindi non ho sponato lo scheletro dall'altra parte, non ho sbagliato la green. Ho fatto altri green passati. Sta subendo un po' di danno. Corri Ale, corri! Vittime, paura. Possiamo fare questa fase, così. Perché non è stato un po' di danno. Però il boss verrà comunque qua, spirulino, eh? Eh, spirulino! Ok, è molto interpretativo, sta fase delle sfere. Adesso ne ho presa una, chissà che era tipo tre piani più sopra di me. Vedo la parte opposta, senza toccare il trono. Cerco di tenere un po' la botta. Qui tanto gli tiro anche delle cure a zona. Roba, sono lì. Palle al muro. Ok, tutti posto? Non ho preso la mia anima, nonostante fosse dentro al muro. Non te l'ha presa? Eh, no, adesso l'ho ripresa. Non era lontana. Ah, sì, scusa. Se vai proprio appiccicato al muro è più scomodo. Eh, per quello dico, se stai leggermente distante. Sì. Così sto un po' a giurirlo. Ah, sì, scusa. Ok. Perfetto, quello in mezzo lì. Oddio, magari il kytan mi ha mandato vaffanculo. Attenzione alla corrente, chi ce l'ha? Gold è? Gold è qualcuno, ce l'hanno. Ok, è tornato. Sta già al 17%. Fantastico. Palle al muro. Ok. Ricordate il ready check quando siamo giù di sotto. Ah, prima prendi le sfere, fammi parlare e poi prendi i ready. Eh, ripi da me ma non ti ho preso. Non toccate il centro perché è comunque letale. E comunque questo è il pre delle green. Cioè funzionano proprio così. Pallina, pallina. E stai più verso il centro se ti trovi male. Mi sembra scrivi backup. Qui sono te. Ok, premi i ready. Hai visto un simbolo? Andate, no. Bisogna premere i ready anche quando si muore. Premere. Sì. Sì. Nel caso dobbiamo rifarlo se vi va a diretti. Ok. Probabilmente dobbiamo rifarlo. Dimentico di dare might. No. Ok. Meglio. Sì, dai. Ah, ieri sera era fatta, subito, ma... Ok, non uscite, prendetevi la cassa dietro al boss che è il terzo oggetto per pannello leggendario. Anch'io. E' quando raggiungi il cap della magnetite settimanale. Ti dice me, ti dice ciao ciao. Ok.